vai via vai via vai via tira sulle mani alza le mani alza le mani leva le mani dal cellulare fascista guarda che fascista guarda 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 bravi bravi pezzi ce la ridai questo è il mio non ci tocca questo non si tocca vieni dentro ma non credito se ne ripeto ma non credito se ne ripeto che ci raccoglitiano e non credo che ci raccogliano e ossia voi non lo crediamo ragazzo come fanno questi qua questi fascisti non lo crediamo ma non lo fanno facisti come fanno facisti e ne sono mai addosso e Franceschini praticamente tutte le braccia oダ revisione a tutti io sono presente e mi dice qui del io qui non si fa quotidiane compliqué ma di che tutti dellenessi rimanetti a voi ma di che non è mai tocato dici che non è traccio chi c'è ma lei chi c'è mai confessi di che non è piacere mai ma come si chiama ma lei non è nemmo mai non abbiamo mai visto le mani addosso a nessuno voi sì fascisti è sempre lui è sempre lui è un violetto è un violetto è un violetto Non abbiamo mai toccato nessuno, Carlo, Carlo, basta, 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 Carlo, basta, Carlo, basta, Carlo, basta, Carlo, ci hanno messo le mani addosso ma noi siamo più forti, tranquilli. Grazie.